Musica Il damare la moto, c'è un'idea di persone che fanno come sa, non? Il damare è così, è la moto di la paracompressione, no? Se c'è giù? C'è giù? Facili. C'è giù la moto di la paracompressione? Si vuoi? Non ho certo. Se non è un pello che ha avuto un pello di arriere, quindi che vuole dire che deve essere un problema se si ha avuto un problema, se si ha avuto un moto, un pello di santo. S'ha super focato, no? Ma prima cosa che se ha avuto un problema, se salto dalla moto. Dopo, se si può avere avuto un pello di arriere, se lo vuole. Se è proprio facile, un pello di santo, un pello di davanti e poi di arriere. La scuola avanti e freni. Un cuore. Excelente! Vale! delle proprie! Allora! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.